Ancora un atto vandalico per il palazzetto dello sport Andrea Di Concilio in via Taverne ad Agropoli. I vandali sono entrati con facilità all'interno del palazzetto non protetto da nessuna recinzione di sicurezza né da videosorveglianza e hanno rotto gli specchi presenti nei bagni all'interno della struttura. Con gli estintori presenti invece hanno rovinato il parquet spargendo la gente estinguente su tutta la superficie. Non è la prima volta che capita un episodio del genere già qualche mese fa. Il palazzetto era stato interessato da atti vandalici. In una struttura senza custode con le porte rotte da anni ci può entrare e uscire chiunque. È giunto il momento di mettere in sicurezza il palazzetto dello sport Andrea Di Concilio prima che sia troppo tardi. Fanno sapere alcuni cittadini indignati. Complimenti per questa ennesima bravata e invece il commento dell'ex presidente della New Basket Agropoli Giulio Russo sono deluso e amareggiato per quanto accaduto. La zona dove è presente il palazzetto dello sport Di Concilio è stata di recente riqualificata dall'amministrazione comunale di Agropoli retta dal sindaco Adamo Coppola con la realizzazione della pavimentazione e di un parcheggio nei pressi del cineteatro. I cittadini stanchi chiedono all'ente comunale l'installazione di un sistema di videosorveglianza che funzioni e che sia utile a contrastare l'inciviltà di coloro che non tengono al bene comune.